Ed eccoci per una nuova stiocventante con tanta vita che esce scasso Perché le ricorda le sole che fa giocare con la pasta dalle ore C'erano gli altri in un punto di abitare con questi ragazzi Che sono lì fuori del gioco perché devono esplugliare in testa Il desiderato del film è del cappile di take. E' un regista, gioconese, come diceva che la musica In questa classifica è una foglia, la foglia che lo diceva Che è un regista di cinema e autore delle versioni Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti.